La parola del Cristo abitrappoglie la sua Chiesa. Tutto fa che a te le grazie per te e a te gloria di Pai. Ammiglia, Signore, anima mia, e il mio Chirico, e il suo servito, alleluia, 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 alleluia. Signore, sia minuto a chi lo ha rush, dell'Evano Spirito, alleluia, 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 alleluia. Glorie a Ste who the Lord. In quel tempo, i suoi 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 civili ha d'arriva un rientrauto bello. E mentre io camminavo, se in lato rubrica di adesso, di sui debiti�izionieri di Bendissimi, con una donna di non protestato solo. Quindi, andando a voi Ma Gesù disse loro, mi parlò con la sua bambina. Se mi rispondevi, mi dirò come ho detto di capoci. Il Battismo di Giovanni veniva dal cielo e dal lino. Rispondetevi. Esi discutevano, dicendo, se diciamo dal cielo risponderanno. Perché allora non vedete? Diciamo nulla per l'uomo, ma nemmeno, ma tenevano la propria per tutti che li venevano con Giovanni e fosse da meno con me. Rispondetevi a Cristo, non avante. E Gesù è santo, ne ha peggio, non voglio notare a Gesù. Parola, a Piazza, a Piazza. Grazie a tutti.